Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Allora, abbiamo fatto questo bellissimo presepe, io e mamma e papà. Allora, l'interno che abbiamo fatto dentro ha fatto Giuseppe, Maria e Gesù. Poi c'è l'asinello, il bubue, le pecorelle, le pallotele di fieno, il tetto con il muschio, anche per te, il muschio. L'abbiamo tutto fatto con la colla, il mio padre ha fatto tutta la stalla. Poi mamma ha preparato Maria, Giuseppe, Maria e Gesù, Gesù, un bambino. E poi vi sviluppo un segreto che mi ha detto mamma. Guardate un po', se io vado a mettere la mano qua dietro c'è un pulsantino, guarda che cosa fa. Quanti abbiamo fino a tre tutti insieme? Tre. No, è fino a dieci. Ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dieci. Wow. E adesso ci sono un'arte. Mi piace? Bellissimo. Ciao. Ciao. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di mamma. Ciao. 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 Ciao.